Siamo solamente all'inizio, siamo alla quinta giornata, di solito la classifica si incomincia ad allungare verso la decima, quindi per ora direi si viaggia tutti tranquillamente insieme. Comunque sia l'importante è vincere le partite con le cosiddette medio-piccole, perché sono punti importanti, poi dopo gli scontri retti può succedere tutto, noi l'anno scorso abbiamo vinto e perso con il Milan, abbiamo vinto e perso con l'Inter, abbiamo vinto e perso con la Roma e abbiamo vinto e pareggiato con il Napoli. L'anno scorso la cosa strana è che in tutti gli scontri retti credo che ci sia stato solamente un pareggio o due pareggi, che è stato noi con il Napoli e poi il resto sono stati tutti vittorie da una parte e dall'altra, quindi è ancora presto per dirlo. Una cosa è sicura, che bisogna fare 90 punti per vincere il campionato. La cosa che noi dobbiamo migliorare, e di questo sono certo, è che la nostra stagione passa da quei momenti di gestione della partita come è stata a Barcellona, come è stata a Sassuolo, perché abbiamo avuto dei momenti simili a Barcellona. Per migliorarli bisogna avere più attenzione, non bisogna uscire dalla partita, non bisogna gestire la partita, perché le partite gestirli diventa un casotto.